al mattino dal mare e dalle scogliere oltre kingsport si alza la nebbia bianca ed eterea sale dal profondo per unirsi alle sue sorelle le nuvole ancor umida dei sogni di pascoli sommersi e delle caverne dove vive il leviatano più tardi quando a rapide piogge estive battono sui tetti aguzzi dove vivono i poeti le nuvole liberano una parte di quei sogni così che gli uomini non vivano nell'ignoranza dei vecchi arcani e delle meraviglie che i pianeti raccontano ai pianeti nella solitudine della notte quando le storie si moltiplicano nelle grotte dei tritoni e le conchiglie delle città sommersi riecheggiano le folli canzoni che appresero dagli anziani le grandi nebbie si levano ansiose verso il cielo colme di racconti da narrare e chi guarda dalle scogliere verso l'oceano vede puro biancore come se il confine delle pareti a picco sul mare fosse il confine della terra e i solenni campanacci delle boe suonassero in mezzo al cielo fatato a nord nella vecchia kingsport le creste rocciose raggiungono una notevole altezza e hanno un aspetto bizzarro la più settentrionale è sospesa nel cielo come una nuvola grigia congelata quel picco desolato e solitario protrude in uno spazio illimitato per cui in quel punto la costa descrive una curva improvvisa il grande mescatonic vi si getta dalle pianure oltre arkham portando con sé leggende dei boschi e piccoli ricordi delle colline del new england i pescatori di kingsport guardano al picco solitario come altri marinai studiano la stella polare per orientarsi regolano i turni di notte in base al modo in cui esso nasconde o rivela l'orsa maggiore il drago cassiopea per essi è tutt'uno col firmamento e infatti quando la nebbia nasconde le stelle o il sole anche il picco è nascosto i pescatori amano le pareti a strapiombo sul mare una la chiamano padre nettuno un'altra a gradoni è stata battezzata strada in salita ma il picco solitario è temuto perché troppo vicino al cielo i marinai portoghesi di ritorno da un viaggio si segnano alla sua vista i vecchi yanchi credono che risalirlo ammesso che fosse possibile sarebbe un rischio molto più grande della morte ma sull'antica cresta c'è una casa e di sera gli uomini vedono che le finestre dai piccoli vetri sono illuminate è un cottage antichissimo ed è sempre stato lì la gente dice che il suo abitante parli con le nebbie che al mattino salgono dal mare e quando l'orlo della parete sembra diventare l'orlo del mondo veda spettacoli meravigliosi in direzione dell'oceano ma è tutto un sentito dire perché sulla cresta formidabile nessuno ha mai osato arrampicarsi e agli abitanti di Kingsport non piace puntare il cannocchiale in quella direzione i villeggianti estivi a volte l'hanno osservata con il binocolo ma non hanno mai visto che il tetto grigio primitivo a guzzo e a spiovente le cui grondai arrivano quasi alle fondamenta e sotto le quali gialle finestre si accendono al crepuscolo i villeggianti non credono che l'abitante della casa sia lo stesso da centinaia d'anni ma non riuscirebbero a convincere di quest'eresia nessun nativo di Kingsport in città vive un terribile vecchio che parla a minuscoli pendoli di piombo chiusi in bottiglia paga il droghiere con monete d'oro vecchie di secoli e nel giardino del suo vecchissimo cottage in Water Street tiene misteriosi idoli di pietra ebbene anche lui conferma che la casetta è lassù dai tempi di suo nonno e che l'occupante è lo stesso il che significa che il mistero risale a tempi antichissimi quando Becker, Shirley, Ronald o Berner erano governatori della provincia di sua maestà della baia del Massachusetts poi un'estate arrivò a Kingsport un uomo di cultura si chiamava Thomas Only e insegnava materie importanti in un college della baia di Narragansett arrivò con una moglie robusta e figli assillanti era stanco di vedere tutti gli anni gli stessi panorami e di pensare tutto il tempo secondo schemi logici e ordinati guardò la nebbia che incoronava il diadema di Padre Nettuno e si incamminò in quel mondo di bianco mistero per i gradoni della strada in salita un giorno via l'altro si straiava sulle creste e guardava l'orlo del mondo e lo spazio misterioso che si stendeva al di là ascoltando le allarmanti campane delle boe e i richiami selvatici di quelli che avrebbero dovuto essere gabbiani poi quando la nebbia si alzava e il mare gli appariva punteggiato dal fumo delle navi sospirava e tornava in città gli piaceva attraversare i vecchi viottoli che percorrevano in su e in giù la collina e ammirava con l'occhio dell'esperto gli abbaini cadenti e le porte ornate di colonne che avevano dato asilo a tante generazioni di robusti marinai a volte parlava persino con il terribile vecchio che in genere non amava gli stranieri e veniva invitato nell'antichissimo cottage i cui soffitti bassi e i pannelli mangiati dai tarli sono testimoni nelle ore piccole del mattino di preoccupanti soliloqui era inevitabile che Olney notasse la casetta grigia nel cielo sulla cresta settentrionale che è tutt'uno con le nebbie e il firmamento e protendeva eternamente su Kingsport e il suo mistero riecheggiava nei sussurri dei vicoli contorti della città il terribile vecchio raccontò con la sua voce faticosa una storia che suo padre gli aveva detto e cioè che una notte un fulmine era scoccato verso l'alto dal cottage in mezzo alle nuvole e aveva raggiunto le parti remote del cielo e Granny Horn che vive in una casetta con l'abbaino tutta coperta d'edera in Sheep Street ripete borbottando qualcosa che sua nonna aveva saputo di seconda mano nella nebbia che sale da oriente verso il cottage irraggiungibile svolazzano ombre misteriose e premono sull'unica porta della casa la porta peraltro si apre sull'orlo della parete che incombe sull'oceano e può essere vista solo dalle navi in mare avido di misteri e non trattenuto dalla paura degli abitanti di Kingsport né dalla pigrizia dei villeggianti Olney preso una grave decisione benché avesse ricevuto un'educazione conservatrice o proprio a causa di quella da che la routine porta a desiderare l'ignoto giurò solennemente di scalare la parete settentrionale e di visitare l'antichissima casupola nel cielo la parte razionale di lui gli suggerì che i suoi abitanti dovevano raggiungerla dall'entroterra tramite la cresta più agevole che costeggiava l'estuario del Miss Cantonich probabilmente era gente che lavorava ad Arkham perché sapeva che a Kingsport la casetta non era ben vista o perché non poteva discendere la parete sul versante di questa città Olney esplorò le pareti minori verso la gran cresta che sorgeva a formare tutt'uno col cielo era sicuro che nessun piede umano potesse salirla o discenderla perché il versante sud era proibitivo ad est e a nord la parete sorgeva verticalmente dall'acqua per centinaia di metri e che l'unico versante praticabile rimaneva quello che dava sull'entroterra in direzione di Arkham un mattino di agosto di buon'ora Olney partì per trovare l'accesso alla cima inviolabile si diresse a nord-ovest lungo piacevoli stradine secondarie superò Hooperspond e il vecchio granaio di mattoni dove i pascoli seguono la cresta in salita che scavalca il Miss Cantonich e al di là del fiume e dei campi offre una piacevole vista dei bianchi campanili georgiani di Arkham c'era una strada in ombra per Arkham ma nessuna traccia di un sentiero che portasse al mare nella direzione da lui deciderata boschi e prati si affollavano sulla sponda alta all'imboccatura del fiume e non c'era traccia di presenza umana non un muro o una mucca dispersa ma erba alta alberi giganteschi e grovigli di piante spinose come doveva averli visti il primo indiano incamminatosi lentamente a est sempre più in alto rispetto all'estuario alla sua sinistra e sempre più vicino al mare Olney scoprì che la strada era estremamente difficile e si chiese come gli abitanti del temuto picco riuscissero a mettersi in contatto con il mondo esterno e quanto spesso andassero ad Arkham per acquisti il sentiero si assottigliò e sotto di lui a destra vide gli antichi tetti e le guglie di Kingsport da quell'altezza persino Central Hill sembrava una nana e riuscì appena a distinguere l'antico cimitero presso l'ospedale congregazionale sotto il quale la leggenda diceva che si aprissero terribili cavità e gallerie davanti a lui c'era erba rada e cespugli di more al di là di essi la nuda roccia della vetta e la punta sottile della casetta grigia abborrita il costone su cui procedeva si restrinse e Olney si rese conto di essere sospeso nel cielo una sensazione da capogiro a sud si apriva l'orribile precipizio che dava su Kingsport a nord l'abisso verticale di quasi un chilometro e mezzo sulla foce del fiume tutto a un tratto gli si sparancò davanti un fosso piuttosto largo e profondo quattro metri dovette andare giù aiutandosi con le mani e lasciarsi andare sul fondo inclinato per poi risalire pericolosamente lo stretto passaggio nella parete opposta dunque era questo il modo in cui gli abitanti della casupola misteriosa viaggiavano fra terra e cielo quando risalì dal fosso cominciava a condensarsi una nebbia mattutina ma Olney vide con chiarezza l'alto imperio cocktail davanti a lui le pareti erano grigie come la roccia e il tetto a guzzo si ergeva orgoglioso contro il biancore latteo dei vapori del mare Olney si rese conto che l'estremità della casa che dava verso terra non aveva porte ma solo un paio di finestrelle sconnesse con i vetri piombati e sporgenti tipici del XVII secolo tutto intorno erano nuvole e caos e al di sotto il bianco dello spazio sconfinato Olney aveva la sensazione di essere sospeso nel cielo con la casa misteriosa e inquietante e quando avanzò verso la parte frontale vide che la facciata era perpendicolo con la parete in modo che la porta d'ingresso poteva essere raggiunta solo dall'aria Olney provò un brivido che non si poteva spiegare solo con l'altitudine era strano che embrici di legno tanto consunti reggessero ancora e il cammino di mattoni sbriciolati si tenesse insieme quando la nebbia si avvenzò Olney strisciò intorno alle finestre dei lati nord ovest e sud tentandole tutte ma trovandole chiuse la cosa gli fece quasi piacere perché più osservava la casa meno gli riusciva simpatica poi una serie di rumori lo bloccò lo sferragliare di una serratura un lucchetto che cedeva e il cigolio di una porta pesante che veniva aperta con cautela i rumori venivano dalla facciata rivolta all'oceano quella che lui non riusciva a vedere dove lo stretto portale si apriva sullo spazio vuoto a centinaia di metri dalle onde poi nella casupola risuonò un passo pesante deciso e Olney sentì le finestre che si aprivano prima a nord nella direzione opposta alla sua poi ad ovest dietro l'angolo le prossime sarebbero state le finestre a sud sotto le basse grondaie dalla parte di Olney il quale era molto preoccupato dall'idea di avere la casa detestabile da un lato e il vuoto dell'abisso dall'altro quando qualcuno cominciò a trafficare con le finestre più vicine il visitatore si appiattì contro la parete al di qua dei vetri aperti era evidente che il proprietario era tornato a casa ma non si era arrivato né per via di terra né con il pallone o un'aeronave di qualche sorta ancora un rumore di passi Olney piegò verso nord ma prima che fosse riuscito a trovare un rifugio una voce risuonò piano e l'intruso capì che doveva affrontare il suo ospite alla finestra d'occidente era affacciato un individuo dal volto piuttosto grosso e un'imponente barba nera gli occhi brillavano di luce propria con l'aria di chi ha visto cose straordinarie la voce tuttavia era gentile di timbro arcaico e Olney non rabbrividì quando una mano abbronzata si allungò per aiutarlo a scavalcare il davanzale e introdurlo in una stanza dal soffitto basso neri pannelli di quercia e mobili tudor intagliati l'uomo indossava vestiti antichi ed era circondato da un'indefinibile atmosfera di avventure marine e sogni di grandi galeoni Olney non ricorda la maggior parte di ciò che disse e neppure chi fosse ma ripete che era strano e cortese e aveva intorno a sé la magia di abissi incalcolabili del tempo e dello spazio la piccola stanza sembrava pervasa da una luce verdastra come quella del mare e Olney vide che le finestre all'estremità orientale non erano aperte ma bloccavano l'accesso della nebbia con spessi vetri opachi simili al fondo delle vecchie bottiglie l'ospite barbuto sembrava giovane ma i suoi occhi avevano contemplato antichi misteri dai racconti che narrava di cose remote era evidente che la gente del villaggio aveva avuto ragione nel supporre che comunicasse con le nebbie del mare e le nuvole del cielo e questo fin da quando nella pianura sottostante era sorto un villaggio rudimentale da cui i pescatori potessero ammirare la casa solitaria il giorno passò e Olney ascoltava le leggende dei vecchi tempi e luoghi lontani di come il re di Atlantide lottasse contro i vici di mostri che erano usciti dalle spaccature sul fondo dell'oceano e di come il tempio di Poseidonis coperto da alghe ornato di numerose colonne venga ancora avvistato a mezzanotte dalle navi perdute che proprio per questo sanno di aver smarrito la rotta furono rievocati gli anni dei titani ma l'uomo con la barba sembrò reticente quando si trattò di accennare all'età oscura del caos iniziale prima che nascessero gli dèi o anche solo gli anziani e quando gli altri dèi danzavano sulla vetta dell'Atecla nel deserto di pietra vicino a Ultar oltre il fiume Sky a questo punto fu bussato alla porta la vecchia porta di quercia rinforzata dai chiodi oltre la quale si apriva l'abisso di nuvole bianche Onley trasalì atterrito ma l'uomo con la barba gli fece segno di stare immobile e in punta di piedi si avvicinò alla porta per guardare dallo spioncino quello che vide non gli piacque per cui si premette le dita sulle labbra e in punta di piedi chiuse tutte le finestre prima di tornare sull'antica panca vicino al suo ospite davanti ai vetri minuscoli delle finestre Onley vide passare in rapida successione una bizzarra figura nera poi finalmente se ne andò Onley era lieto che l'uomo con la barba non avesse aperto perché nel grande abisso vivono strane creature e il cercatore di sogni deve stare attento a non provocare o incontrare quelle sbagliate le ombre cominciarono a raccogliersi prima piccole furtive sotto il tavolo poi più ampie e audaci negli angoli dai pannelli neri l'uomo con la barba fece enigmatici gesti di preghiera e accese alte candele in candeliari d'ottone bizzarramente scolpiti ogni tanto guardava la porta come se aspettasse qualcuno e alla lunga la sua attesa fu premiata da alcuni colpi che evidentemente seguivano un codice antico e segreto stavolta l'uomo con la barba non guardò neppure dallo spioncino ma tirò il grande paletto di querza e fece scattare la serratura in questo modo la porta massizia si aprì sulle stelle e sulla nebbia poi al suono di oscure armonie fluttuarono dall'abisso i sogni e le memorie dei signori della terra ora sommersi e riempirono la stanza fiamme d'oro guizzavano fra i riccioli impastati d'alghe e olney nel rendere loro omaggio provò il più totale sbalordimento c'erano il grande nettuno cagliardi tritoni e fantastiche nereidi e in equilibrio sul dorso dei delfini vi era un'enorme conchiglia bivalve in cui viaggiava la grigia e spaventosa figura del primitivo nodens signore del grande abisso le conchiglie più piccole impugnate dai tritoni emettevano fantastici suoni e le nereidi li riecheggiavano colpendo il guscio risonante di sconosciuti abitatori delle caverne abissali il peloso nodens allungò una mano avizzita e aiutò olney e il suo ospite a salire a bordo della conchiglia mentre dai nautili e dai gusci delle altre creature si levava un clamore spaventoso il favoloso convoglio si librò nell'aria e gli squilli e le grida si persero nell'eco dei tuoni per tutta la notte a kingsport la gente fissò l'altissima parete quando la nebbia e il temporale lo permettevano verso le ore piccole vedendo che le finestrelle della casa si erano fatte buie si cominciò a parlare di sciagura e di sastro i figli di olney e la robusta matrona pregarono il blando e appropriato dio dei battisti e si augurarono che il viaggiatore avesse portato ombrello e stivali perché la pioggia non sarebbe cessata fino al mattino l'alba salì gocciolando dal mare avvolta nella nebbia e i galleggianti fecero risuonare il loro segnale nei vortici d'aria bianca a mezzogiorno cori fatati squillarono sull'oceano e olney asciutto e senza stivali di sorta scese dalle scogliere e tornò all'antica kingsport con lo sguardo di chi ha visto luoghi remoti non riusciva a ricordare i sogni che aveva sognato nella caciupola dell'eremita né il modo in cui fosse riuscito ad attraversare la fenditura che nessun piede umano aveva mai calpestato prima con nessuno pote discutere la sua esperienza tranne che col terribile vecchio il quale in seguito mormorò strane cose nella lunga barba bianca e giurò che l'uomo che era sceso dalla cresta non era lo stesso che vi era salito e qualche parte sotto il tetto grigio della caciupola o nelle distese inconcepibili della nebbia bianca e sinistra era rimasto imprigionato lo spirito perduto di colui che era stato Thomas Olney da quel giorno e per numerosi anni vissuti all'insegna del grigiore e della banalità il professore ha lavorato mangiato dormito e fatto senza batter ciglia i suoi doveri di cittadino non sogna più la magia delle colline remote non sospira al pensiero dei segreti che affiorano dal fondo dell'oceano come verdi scogliere il fatto che i suoi giorni siano tutti uguali non gli dà pena e i pensieri logici e ordinati soddisfano la sua immaginazione la moglie diventa sempre più grassa e i ragazzi crescono prosaici ormai in grado di rendersi utili il professore non manca mai di sorridere con orgoglio quando l'occasione lo richiede nei suoi occhi non c'è più alcuna luce inquieta è solo di notte nei sogni vagabondi drizza ancora le orecchie per captare il suono di campane remote non è più stato a Kingsport perché alla sua famiglia non piacevano le vecchie buffe case e sua moglie giudicava le fognature assolutamente insufficienti oggi possiedono un moderno bungalow a Bristol Highlands dove non ci sono creste inviolate e i vicini sono moderni e urbani ma a Kingsport si raccontano molte storie e persino il terribile vecchio ammette che ci deve essere qualcosa che suo nonno non è mai rivelato perché ora quando il vento soffia impetuoso da nord e si abbatte sulla casupola che è tutt'uno col firmamento il silenzio minaccioso che grava sulla baia e che costituiva il terrore degli abitanti è interrotto i vecchi raccontano di voci gradevoli che cantano in cielo e di risate colme di una gioia che non è di questa terra e dicono che di sera le finestrelle siano più luminose di prima raccontano inoltre che in cima al picco risplenda più spesso l'aurora boreale e che a nord si accenda di azzurro mostrando visioni di mondi cristallizzati mentre la cresta e la casupola solitaria si stagliano nere e fantastiche sullo sfondo di colori meravigliosi e all'alba la nebbia è più spessa e i marinai non sono sempre certi che i suoni che si odono verso il mare siano quelli delle boe ma la cosa peggiore è il sopirsi delle antiche paure nel cuore dei giovani di Kingsport che di notte si mettono ad ascoltare i suoni remoti del vento del nord giurano che l'antica casupola sulla scogliera non può essere abitata da nessuna forza malefica o dannosa perché nelle voci che si odono in lontananza c'è un timbro di felicità e l'eco argentina di musica e risate quali storie le nebbie raccontino al pinnacolo di settentrione nessuno è in grado di dire ma i giovani cercano di catturare almeno un barlume dei prodigi che bussano alla porta spalancata sull'abisso quando le nuvole sono più spesse i vecchi temono che un giorno uno di essi voglia trovare la strada per il picco nel cielo e imparare i segreti che si accumulano da secoli sotto il tetto adembrici che è tutt'uno con la roccia le stelle e gli antichi terrori di Kingsport non dubitano i vecchi che quei giovani avventurosi torneranno indietro ma temono che dai loro occhi scompaia una certa luce e la volontà dai cuori e non desiderano che l'arcaica Kingsport dagli antichi abbaini e i ripidi vialetti di collina muoia nello spirito anno dopo anno mentre lassù nel rifugio appollaiato sulla cresta i canti e i cori si fanno sempre più sprenati i sogni portati dalle nebbie si fermano a riposare nella via che li conduce dal mare al cielo i vecchi non vogliono che l'anima dei giovani lasci i piacevoli focolari e le taverne con i tetti manzardati di Kingsport né che i canti e le risate in cima alla scogliera si facciano più forti perché se una nuova voce è stata in grado di sollevare tanta nebbia dal mare e di accendere nuove luci balenanti nel nord essi predicono che l'aggiunta di altre voci porterebbe nebbie e luci in tale abbondanza che i vecchi dei alla cui esistenza accennano solo in bisbigli per paura che il parroco della congregazione li senta emergerebbero dalle profondità e dal misterioso cadà del deserto gelato e stabilirebbero la loro dimora su quell'altissimo baluardo a due passi dai semplici pescatori e dalle dolci valli e colline questo i vecchi non vogliono perché nella gente semplice le cose che non sono di questa terra fanno nascere sospetti e il terribile vecchio ricorda che Olney parlò di una creatura che aveva bussato alla porta ma che l'abitatore solitario temeva e di una figura nera indagatrice che aveva intravista dai vetri piombati delle finestrelle se tutto questo avverrà o no solo gli anziani possono deciderlo nel frattempo la nebbia continua a salire verso il picco vertiginoso e l'antica casupola dirupata la dimora dalle basse grondaie dove non si vede nessun essere umano ma che di sera è illuminata da luci furtive bianca ed eterea sale la nebbia dal profondo per unirsi alle sue sorelle le nuvole ancora umida dei sogni di pascoli sommersi e delle caverne dove vive il leviatano e quando le storie si moltiplicano nelle grotte dei tritoni e le conchiglie delle città sommerse viecheggiano le folli canzoni che appresero dagli anziani le grandi nebbie si levano ansiose verso il cielo cariche di racconti e Kingsport che riposa inquieta sui contrafforti inferiori di quella spaventosa sentinella di roccia vede in direzione dell'oceano un puro biancore come se il confine delle pareti a picco sul mare fosse il confine della terra e i solenni campanacci delle boe suonassero in mezzo al cielo fatato e i solenni di roccia di roccia di roccia di roccia di roccia di roccia di roccia